Ciao ragazzi, io sono Ken e come avevo promesso questa sera vi faccio vedere il mio metodo per misurare i gradi del ciclico e del passo del collettivo. Il mio metodo, questo non è proprio veramente vero perché ho copiato quello che ho trovato su internet fatto già da altri, ma ho deciso magari di cercare di affinare quel qualcosa che si è visto solo con alcune foto e che magari era poco comprensibile. Partiamo dicendo subito che è la prima cosa da fare e io ovviamente l'ho già fatto perché sono crashato giusto ieri e ho dovuto smontare l'elicottero perché avevo piegato alcuni di questi braccietti e ho quindi già utilizzato il livellatore di piatto della Racconeli, ho livellato il piatto e dopodiché ho rimontato la testa e ho già fatto diciamo i settaggi per cui in questo momento l'elicottero è già regolato. Niente, adesso lo alimentiamo e vi faccio vedere come faccio io a fare queste regolazioni. Ovviamente ho acceso la radio e ho attivato sia l'Idle Up che l'Hold per sicurezza. ok, siamo alimentati e perfetto, adesso controllo con la radio di avere lo stick a 50%, vediamo se così si riesce a capire meglio, ok, vedete 50% lo stick. ecco già in questa posizione potrete vedere che le pale sembrano tendere leggermente verso il basso, ovvero questa qui tende a piegare leggermente indietro e anche questa leggermente in avanti. Questo perché comunque ci sono dei giochi dovuti appunto alla meccanica non troppo precisa di questo elicottero che come vedete toccando la pala salgono e scendono. dai miei test, dai miei esperimenti ho visto che se posizioniamo le pale in questa posizione, cioè leggermente verso il basso, nel momento in cui andranno in posizione di volo, diciamo, quindi si apriranno e si estenderanno, ok, e grazie anche alla forza centrifuga, diciamo che le fa girare e le fa aprire, andranno in posizione. ecco, se le guardate in questa posizione, non so purtroppo la telecamera quello che è, si deve vedere che sono praticamente allineate al piatto, ok, si effettivamente bisognerrebbe forse vederlo più così, ok, perfetto, questo vuol dire che io in questo momento ho già trovato il mio passo zero, col 50% dello stick. ecco, per fare questo ho utilizzato questo metodo, quindi da questa posizione piego una pala in avanti e una pala indietro, ok, e vedete come deve essere allineato, come vedete la pala è praticamente allineata alla coda, ok, qui, come vedete la pala è allineata alla coda, bene, ecco, e da questa posizione andiamo a misurare l'altezza del col calibro partendo da terra, l'altezza fullo spigolo della pala, che mi dà 13 mm e 4, prendo questo valore come riferimento, poi misurerò anche la parte frontale e anche frontalmente ho 13 mm e 4, come ho fatto a ottenere questa misura? cioè in questo momento praticamente il mio passo è perfetto, cioè tutte e due le pale sono alla stessa altezza, cosa vuol dire che quindi quando metteremo in moto l'elicottero avremo proprio il passo zero, anche visivamente è percepibile questa cosa, a questo punto ho detto che ho trovato il passo zero, come ho fatto a trovarlo? non basta livellare il piatto, una volta che avete livellato il piatto non è detto che le vostre pare siano in questa posizione, io prima ho livellato il piatto ma mi sono sbagliato, sono rimasto un po' troppo alto e per cui avevo un valore che le pare mi si mettevano diciamo circa in questa posizione, a questo punto ho accorciato questi link, i link che collegano il piatto e l'ho fatto in modo che il piatto si abbassasse e a questo punto ho trovato sempre al 50% di stick sulla radio, diciamo il mio passo zero, per cui se volete variare il posizionamento delle pale dovete agire su questi link, accorciandoli e allungandoli il piatto sale e scende e le pale cambiano la loro incidenza, vedete se io allungassi le pale vanno su, se accorciassi le pale andrebbero giù, ok? Perfetto, detto questo dovremmo fare in modo in questo momento di avere, per misurare i gradi del ciclico, dovremmo misurare l'escursione che hanno le nostre pale, l'escursione totale, partendo ovviamente da zero, per noi lo zero è questo 13,4, io a questo punto muovo tutto lo stick su e trovo 11,4, cioè 2 cm, riporto lo stick al 50, un attimo per la precisione, perfetto, torno giù, ecco, e ho circa 15,4 che qua, mezzo milimetro più, un millimetro meno, insomma cambia poco, la somma di questo fa 4 cm, ovvero 40 mm che tradotto sono circa 12 gradi di passo, ok? Farò la stessa misurazione anche frontalmente, per cui adesso qua, scusate se non si è visto, bene, ok, per cui metto qua lo strumento, posiziono, circa 13,4, ok, salgo, ho 11,2, 11,3, più o meno, insomma, ok, e anche qua, perfetto, vedete? Discussione simmetrica, per cui a questo punto ho misurato il passo collettivo, quindi il mio elicottero avrà circa 40 mm di scursione, ovvero 12 gradi di passo collettivo, misuriamo, visto che siamo in questa posizione, anche i gradi del ciclico, i gradi del ciclo si misurano in due posizioni, in questa posizione per misurare l'elevatore, ovvero il picchiacabra sulla vostra radio, utilizziamo sempre lo stesso metodo, quindi mi posiziono sempre col mio strumento, col mio calibro, dietro le pale e muovo, picchio, perfetto, ho 22, torno in posizione, date sempre un colpettino per azzerare, diciamo, la pala, abbasso e ho sempre circa 22, 15,6, 22, da 13,4 a 15,6 e da 13,4 a 11,2, perfetto, questi sono sommati, quindi 44 mm, ovvero un po' più di 12 gradi di passo, tra 12 e 13, di passo ciclico, ovviamente, in questo momento stiamo parlando del ciclico. Una volta che ho misurato l'elevatore, come vedete l'escursione è perfettamente simmetrica, farò la chiesa operazione anche frontalmente, ma se da una parte va bene, tendenzialmente va bene anche dall'altra, ma per scrupolo, ricontrolliamo anche da questa parte, quindi muovi giù, vedete, 22, muovi in su, 22, per cui direi che in questa posizione ci siamo. Per misurare gli kyle iron, per cui il trasla, sposto le pale in questa posizione, ok, perfetto, così, mettiamo l'elicottero frontale e a questo punto, muovendo ovviamente il trasla sulla nostra radio, dobbiamo misurare l'escursione delle pale, ok, anche qua vedete che ho 13,4, per cui il 4 è perfettamente bilanciato, perché è la stessa altezza sia in questa posizione che nell'altra, quindi andrò a muovere gli alettoni, vedete, 20 qua, 21, 6, dovrò se ho circa 21, 22, proviamo a dare un colpetto, azzeriamo, comunque mezzo mila, tramatti mezzo mila, metri indietro, insomma questi servi non consentono di essere così precisi, quindi da questa parte ci siamo, 22, e anche di qua ci siamo, 22, perfetto, per cui ho, in questo momento, ho un piatto ciclico simmetrico, quindi sia a livello di elevatore che di alettoni ho gli stessi gradi, questo fa in modo che l'elicottero si comporti in maniera, diciamo, molto simile in tutte le manovre, ok, è anche vero che dagli ultimi test che ho fatto mi sono accorto che, come anche diceva Lift in altri post, che abbiamo già scritto, effettivamente questo elicottero tende ad essere lento nelle manovre di trasla, cioè se fate fare questo o questo, in questo modo, è più lento che fare picchia cabra, per cui basta voi scegliere un po' il settaggio che preferite. Diciamo che questo settaggio, con il motore stock, come vedete, ho semplicemente allungato la coda e messo, diciamo, il piatto ciclico delle microeli, con il motore stock questo elicottero, con questa configurazione, vola molto bene, non soffre più di TBO, si può affondare tutto il gas senza problemi, per cui diventa veramente piacevole da usare. Dovete, a questo punto però, per capire un'altra cosa, se non era chiare, come andare a variare l'escursione, diciamo, dei vari servi. Come si fa? Sposto un attimo l'elicottero qui da una parte, dal menu della radio, adesso vediamo se si deve vedere qualcosa, si vede poco, comunque dal menu della radio dovete andare nel travel adjust dei servi e da lì dovete giocare sulla corsa dei vostri servi. Per cui, io faccio un esempio, sugli alettoni ho dovuto impostare alettoni a sinistra 92%, quindi quando faccio questo, e mentre a destra sono 87%. Questo perché avevo differenza quando facevo questo movimento di escursione tra uno e l'altro. C'erano 4-5 mm di differenza, sono troppi. Voleva dire che quando davo traslo a destra, l'elicottero aveva 14 gradi, con traslo a sinistra ne aveva 12, e quindi reagiva in maniera differente. Questo non va bene, ci si guida male, ci si rende conto che il modello diventa instabile, diciamo così. Come anche nel fare il picchiacabra è importante che il mezzo millimetro là dietro non cambia nulla, ma insomma 3-4 mm, 5 mm, sì. Per cui questo movimento deve essere, questa escursione deve essere assolutamente identica sia in picchia che in cabra. In questo modo questo elicottero avrà delle reazioni normali, diciamo così, e sarà molto bilanciato, diciamo così. Quindi non spaventatevi se vi troverete dei valori di alettoni, destra-sinistra, picchiacabra, quindi su e giù, differenti. L'importante è che troviate la giusta escursione rispetto ai servi. Quindi cioè, se lo picchia e ho 20 mm, se lo picchio e ho 20 mm, se lo cabra ho 20 mm, se traso a destra e ho 20 mm, se traso a sinistra devo avere 20 mm. Questo è molto importante. La stessa regola vale anche per, ovviamente, per i radi del passo, ok? Il passo deve essere il più possibile simmetrico, anche se questa affermazione non è propriamente vera. L'elicottero quando è sotto sopra tende a sforzare tendenzialmente di più, per cui ha bisogno di più energia per, diciamo, per volare. Potrebbe essere che sotto sopra voi abbiate bisogno di un po' più passo, anche per sostenerlo, per fare in modo che si rialzi quando siete sotto sopra, magari anche per una manovra d'emergenza, perché siete andati troppo vicini a terra. Per cui è a vostro piacimento che decidete poi se avere un grado 2 in più in una posizione o nell'altra. Il fatto di tenerlo il più omogeneo possibile vi renderà l'elicottero molto equilibrato, diciamo così. Niente, io spero di essere stato chiaro, anche se non è facile, perché questo argomento è un po' particolare. Mi raccomando la cosa che personalmente mi sento di dire, cioè io da quando ho regolato questo elicottero in questo modo, sembra un altro elicottero, vola benissimo, ed è un elicottero di serie alla fine, c'è poco di più. Come l'ho preso di scatola, con i settaggi radio di scatola, non volava bene. È vero che poi ognuno di voi magari a sensazione potrà sempre arrivare a una configurazione che dice, cavoli a me piace e vola bene così. Però il fatto di sapere in ogni momento effettivamente cosa fa il vostro modello e perché lo fa, dove poter eventualmente poi agire per migliorarlo, secondo me è molto interessante, è anche molto istruttivo. Per cui, secondo me, questo è un buon compromesso per un elicottero di serie, quindi 12 gradi di ciclico sia elevatore che a lettoni e 11-12 gradi anche di basso, tutto molto bilanciato. Poi ognuno di voi avrà i suoi gusti e proverà. Io personalmente ho fatto anche un settaggio particolare sui double rates, ho fatto in modo che in questa posizione i miei double rates siano al 90%. In questo modo ho la possibilità di, spostandomi a 100% di double rates, di arrivare fino a 14-15 gradi circa, ho fatto la misurazione, portando il double rates al 100%. In questo modo, quando sono sul campo a fare i voli, so che spostandomi da 90 al 100% vado ad avere 14 gradi così posso provare a volare con più gradi e vedere effettivamente come reagisce il modello. Per cui ognuno di voi dovrebbe fare le sue misurazioni, impostare la sua ragione, poi capire, eventualmente fare due test e cercare di capire durante queste escursioni, nelle varie percentuali sia di double rates che anche di traversal giust, vedere come viene impostato il modello. In questo modo saprà e si aspetterà determinate reazioni a seconda delle modifiche che gli andrà a fare. E niente, spero sia stato chiaro e ci vediamo poi sul forum. Ciao a tutti!